I carabinieri di Eboli e gli ordini del comandante Luca Geminale con la liquida radiomobile hanno arrestato un 39enne insegnante residente a Campagna, il quale tra le ore 23.30 e le ore 24 di venerdì 15 giugno 2018 si rendeva responsabile di una tentata rapina con ferimento di un giovane battipagliese e di altra rapina consumata poco dopo in danno di due giovani coppiette apparteatesi in due distinte ma vicine zone periferiche. Alle ore 23.30 la prima rapina in danno di una giovane coppia di fidanzati durante la quale il rapinatore si sporgeva dal finestrino all'interno della vettura armato di un grosso coltello. Il giovane ragazzo nel tentativo di difendere la fidanzata cercava di afferrare il rapinatore per il braccio armato dal coltello ma veniva ferito con un profondo taglio alla mano medicato al pronto soccorso con sei punti di sutura. Il rapinatore si portava in un altro parcheggio ubicato presso il centro commerciale Le Bulle di Eboli dove sorprendeva una coppietta di giovani fidanzati che alla vista dell'uomo armato fuggivano lasciando l'auto. Il rapinatore dopo essersi impossessato della borsa della giovane e del portafoglio del ragazzo fuggiva via a bordo della propria vettura Fiat Panda per poi finire subito dopo fuori strada. Sul posto diverse pattuglie dell'arma allertate dalle vittime delle rapine che trevano in arresto il rapinatore che si trovava ancora ferito a bordo della propria autovettura. L'arrestato veniva trasportato verso l'ospedale di Eboli dove gli veniva riscontrata la frattura del setto nasale ed una profonda ferita al labbro superiore, lesioni conseguenti all'incidente. L'intera rifurtiva veniva recuperata e riconsegnata agli eventi diritto mentre l'autovettura ed il coltello venivano sottoposti a sequestro penale. L'arrestato con precedenti penali di lieve entità tra cui guida è stato di ebrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti dopo le formalità di diritto è stato associato presso la casa circondariata di Salerno Furni.